Oi, 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 ma quel giorno Fantozzi ebbe finalmente dai suoi superiori un incarico di fiducia e di grande soddisfazione. Soldato, tu che sei un volontario. Beh, volontario insomma. Corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta. Scusi, ma sono 42 chilometri. E 195 metri. Ah, beh, ah, 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 e allora, è, è, è differente. Vai. Vado. Via, chi è? Ma non dai un bacio nemmeno alla bambina. Un bacio, alla bambina. Senti, lo faccio in un secondo tempo. Poi ti spiego. A me pietà. Non forere papà, eh? No. Ancora! Ancora acqua! 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 Yuhuu! Acqua! Chao! Lola! Lola! Che... Che ha? Che ha suonato?! Che ha... Che ha bussato!? Lola! 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 Oh mamma! Jose! Tomma una biga! Sono salvo! Scusi, per pietà, Auriga Sì? Vada a Tene, lei No, mi dispiace, soldato, vado a Telfo Perché mi scusi, lei vada a Tene? Sì, perché? Allora mi facci una cortesia, visto che è di strada Mi porti questo capitello al Senato, va bene? No E facci presto, vai Come umano, lei Ma sono fortunato Per pietà, per le mura di Atene Dritto, Angellè Nocce Oh, mamma Oh, Zeus Era il temide Abbiate pietà Pietà No, fermo Non aiutarlo Come? Se no è squalificato Ma che cavolo dici? Oh Oh Manca venti Meno Meno dieci Meno Tre Meno quattro Meno uno Eccomi qua Parla Vabbè 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 Un momento Ecco Porto 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 notizie Da 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 Maratona Che è successo? Dove? A Maratona Forza Ah, dunque, ecco, non me lo ricordo più. Come non te lo ricordi? Doc, mi è scappato di mente. Ma non se lo ricordo più. Abbiamo vinto. Chi? No, sì, no, cioè sì, no, ni. Abbiamo per tutto. Sì, no, sì, no. Ecco, mi è venuto in mente. Abbiamo pareggiato, uno a uno. X. Guardiero, arrestatelo. No, abbia pietà, ci faccio una proposta. Faccio un salto a maratona, 42 chilometri e 195 metri. Mi informo meglio, magari me lo scrivo sulla tavoletta di cera e ritorno con la notizia. Esatta. Vadi.